ti ricordi? no no lo so chi rompe ma guarda a chi è te no 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 tira 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 ma che ne ha cuciti? no ho dato i miei ma che ne ha cuciti? sotto il cartone si rompe sotto il cartone si rompe vederla pezzo al culo claude e nes la messa anche di quelli da arrampicata in cui magari sono buona giù vediamo quei fervecchi bravo tante qua qui vicino macchine e moto in vendita no